Questo libro proprio di avvio, di conquista attraverso il cibo. Ascoltiamo. Cardi economici alla borghese, piatto per sociologi, antropologi ed economisti socialdemocratici, promotori dell'austerità per superare la crisi economica, ciclica oppure no. Eccita molto gli ispettori del fisco, di qualsiasi sesso, per l'oscenità sonora e visiva del cardo e per la lussuria risparmiatrice che suscita il mangiare una fibra vegetale stufata con ingredienti economicissimi. Due tuorli d'uovo e un paio di filetti d'acciuca. È un piatto da dopoguerra. O da periodo fra due guerre difficili, che può proporsi durante una cena di commemorazione, senza luce elettrica per le restrizioni, e con un pezzo di pane nero fingendo di averlo comprato con la tessera a nonaria. Grazie e buon appetito.